Ed eccoci di nuovo insieme. Ora parliamo di un nuovo progetto promosso da Appindustria Mantova in collaborazione a Traduzioni Benazzi. Parliamo del primo video corso di Business English pensato esclusivamente per manager, imprenditori e professionisti. Ne parliamo con Silvia Benazzi che è la titolare di Traduzioni Benazzi e l'insegnante che si occuperà di questo video corso. Benvenuta. Grazie mille. Allora, a chi vi rivolgerete? Allora, il video corso è stato strutturato esclusivamente per manager, imprenditori e libri professionisti. Quindi tre categorie ben specifiche che hanno pochissimo tempo a disposizione e vogliono ottenere delle strategie efficaci per avere un maggior impatto sui clienti che hanno già oppure sui potenziali clienti che potrebbero acquisire in un futuro immediato. È un video corso al quale si ha accesso a vita e le lezioni vengono integrate ogni mese con una giunta di due nuove video lezioni. Quindi è altamente specifico, è un video corso che non è per tutti. Questo significa che bisogna avere almeno un livello intermedio di partenza, di conoscenza appunto del Business English. Ed è per professionisti che sostanzialmente non si accontentano ma vogliono un video corso che sia tarato sulle loro esigenze comunicative. È un manifesto quello che ha appena descritto, ovvero non per tutti, quindi si rivolge a un target di alto livello, va detto così, sia nell'abitudine, nella frequentazione della lingua inglese business naturalmente, sia anche nel volersi sempre migliorare perché è comunque un mettersi alla prova, anche il fatto che sia costantemente aggiornato da un altro, insomma, fa capire che c'è voglia sempre di stimolarsi. Assolutamente sì, anche perché i contenuti sono nuovi, si possono sempre acquisire delle tecniche per essere ad esempio più persuasivi, più di impatto, più diretti quando ci si siede al tavolo delle trattative. Quindi non c'è mai un limite sostanzialmente al miglioramento di una lingua straniera e all'acquisizione di una conoscenza che deve essere sempre più specializzata. Eh sì, è proprio così. La cosa peggiore è quando non ti vengono le parole e devi iniziare a fare un giro per riuscire a spiegare il significato, poi appunto si rischia di non essere esaustivi e diretti. Sì, assolutamente. E tra l'altro a questo proposito ci sono proprio alcune video lezioni specifiche che insegnano quali sono, diciamo, i modi di dire più utilizzati. Proprio perché, come interprete, avendo accompagnato molti imprenditori all'est durante delle trattative commerciali, mi sono accorta che mi chiedevano di tradurre alcune frasi specifiche, che magari sono frasi che funzionano molto in italiano, perché chiaramente questi imprenditori sanno bene, sanno fare con eccellenza il proprio lavoro. Quindi mi chiedevano di tradurle, ovviamente in inglese, mi chiedevano come si possono tradurre dall'italiano all'inglese certi modi di dire. Quindi ci sono proprio delle lezioni dedicate alla traduzione di certe frasi chiave per essere più persuasivi. Perché un modo di dire può fare la differenza, anche in termini di accordo, perché magari si vanno a toccare delle corde di familiarità, di vicinanza, che altrimenti il freddo tecnicismo non raggiungerebbe. Assolutamente, anche per un discorso di comprensione, perché può essere che ad esempio il potenziale cliente utilizzi dei modi di dire che l'imprenditore non ha mai sentito e quindi non sa comunque identificare, attribuirgli un significato. Ad esempio gli americani ne utilizzano tantissime che sono associate al mondo dello sport e che non sono così di immediata comprensione. Quindi un aiuto anche per incrementare e migliorare la propria comprensione. Allora, per le aziende associate ad API Industria a Mantua ci sono anche dei vantaggi, insomma due bonus in particolare per partecipare a questi corsi. Assolutamente, è un'iniziativa che è partita la settimana scorsa, c'è tempo fino al 31 gennaio per usufruire di questi bonus. Il primo bonus è appunto la possibilità di visionare gratuitamente due video lezioni dai contenuti altamente specifici e l'altro bonus è la possibilità di acquistare questo videocorso con uno sconto interessante, perché lo sconto si agirà sui 497 euro. Quindi assolutamente un'opportunità da accogliere al volo, visto che siamo all'inizio dell'anno nuovo, ci sono i buoni propositi. Quindi potrebbe essere quello, finalmente, tra i tanti, di dare una marcia in più al proprio Business English. L'ha già fatto intendere in avvio di puntata che il grafico tra il tempo a disposizione e la resa è molto, come dire, applicato a questo corso. Quindi il dare e avere tra il tempo impiegato e l'efficacia e i risultati nell'immediato è un valore aggiunto importante. Assolutamente, un valore aggiunto importantissimo e c'è anche questa grande flessibilità di poter visionare le video lezioni dove e quando si vuole, quindi senza dover annullare la lezione all'ultimo minuto per una riunione improvviso per impegni improrogabili. E' stato anche questo che mi ha dato l'input per pensare a un videocorso riferito a queste categorie, perché molte volte mi trovavo a fare dei corsi individuali con imprenditori o manager che regolarmente annullavano la lezione all'ultimo minuto e questo andava chiaramente a loro svantaggio, anche perché più il corso è dilazionato nel tempo, più lo si prolunga e meno sono i risultati. L'efficacia ne perde naturalmente, quindi lo dico per la formazione della categoria che rappresento, è come un po' quello che l'ordine giornalista ha impiegato, quindi ognuno può fruirne quando e come vuole dal computer, dal laptop, insomma da dove e da come vuole. Assolutamente. E con accesso a vita, quindi vuol dire che in qualsiasi momento si può tornare, se si vuole rinfrescare un pochino, a rivedere questi videocorsi. Le lezioni si possono visionare all'infinito e come dicevo all'inizio vengono aggiunte due nuove video lezioni al mese, quindi davvero è un... Due puntate nuove al mese, insomma. Sì, assolutamente, assolutamente. Ogni lezione dura circa 50 minuti, quindi circa un'ora, giusto? Allora, le lezioni, le due lezioni gratuite hanno una durata complessiva di 50 minuti, quindi sono circa 25 minuti a video lezione, però poi all'interno del videocorso le durate variano molto, non si va mai comunque oltre i 20 minuti. Ah, quindi sono... Quindi assolutamente dritte al punto, niente perdite di tempo. Bisogna ottimizzare, eh? Assolutamente ragione, però effettivamente. Anche perché il livello di attenzione, comunque essendo noi sempre sollecitati da tantissime cose, è poco, quindi meglio video lezioni più corte, ma che siano più dritte al punto. Sì, anche per la soglia di attenzione, studi dimostrano che dopo, l'ora diciamo che è il termine ultimo, oltre al quale magari bisogna dare una pausa, un intermedio. Magari se è più concentrato naturalmente il picco è più alto. L'altro visuale importante è che il business English è applicato in un territorio dove solitamente negli ultimi anni bisogna sempre rincorrere. Quindi se l'Italia ha una vocazione di export e anche la provincia di Mantua ne fa veramente oltre il 70% del fatturato, riuscire a migliorare la comunicazione laddove storicamente si è lacunosi, va detto, è la grande conquista. Certo, perché ovviamente ci sono tantissimi professionisti che hanno un livello più che buono di inglese, ma quando comunicano, quando comunichiamo, lo facciamo in modo efficace, utilizzando tutto il nostro potenziale, siamo davvero persuasivi oppure ad esempio utilizziamo lo stesso vocabolario che utilizzavamo quando abbiamo iniziato la nostra carriera. Possiamo arricchirlo, possiamo capire come essere più enfatici, quindi ci sono tutta una serie di strumenti che normalmente durante i corsi di business English non vengono forniti. Quindi si abbatte anche lo stereotipo dell'italiano che parla male l'inglese e gesticola per compensare certe mancanze di dizionario. Assolutamente, anche perché qui siamo in un ambito dove l'importante è farsi capire e non funziona quando si fa business a livello internazionale, quindi assolutamente bisogna dare il massimo e pretendere il massimo. Ecco, possono soffrire di questi videocorsi eventualmente anche dipendenti o di piccoli gruppi di dipendenti oppure sono solo per gli imprenditori e eventualmente professionisti, libri professionisti? Allora, questo videocorso è stato studiato proprio per queste tre categorie, quindi in base alle loro esigenze comunicative. Pertanto non mi sento di consegnare il videocorso a un impiegato che ne fa un uso che non è diciamo quello finalizzato al discorso di acquisire clienti o di sedersi al tavolo appunto delle negoziazioni. Però ciò non toglie che insomma assolutamente se la persona è determinata o vuole fare carriera o vuole acquisire più confidenza quando parla in più sicurezza, chiedo scusa, quando parla in inglese, assolutamente. Entro il 31 gennaio, quindi mancano pochi giorni, c'è la possibilità di avere un'opportunità anche di scontistica importante e appunto di iniziare il percorso che abbiamo raccontato fin qui. Quindi mettere alla prova un inglese già strutturato verso nuove migliorie e anche strategie, abbiamo capito, anche trucchi in qualche modo che riescano a ottimizzare poi il momento clou della vita aziendale, ovvero l'incontro tra domande e offerta con clienti esteri. Cidio è una delle frasi che si utilizzano di più, così, magari nel momento in cui ci si incontra, magari appunto un detto. Ad esempio quando ci si siede al tavolo delle trattative e si vuole proporre a un potenziale cliente, a un nostro cliente magari delle situazioni vantaggiose, si può dire Kill two birds with a stone, il famoso prendere due piccioni con una fava, quindi assolutamente questa è un'espressione idiomatica che è utilizzata moltissimo. Traslata anche in altre... Assolutamente. ...maditudini. Molto, molto interessante. Quindi gioca tra sempre, che può andare sempre a buon fine in qualche modo, anche all'estero. Quindi anche il giocare con la parola non è prettamente italico, come, anzi ovviamente no, ma ha la sua efficacia. Assolutamente no. Bene, bene. E un'altra video lezione interessante è sui tipici errori di pronuncia che commettiamo magari noi italiani danni. Vuole un caso e che nessuno sia mai corretto, quindi... Ecco, un esempio. Management. Quella corretta è quella che ha appena detto lei. No, è quella sbagliata. Ecco, perfetto. Quindi management. Management. Mettiamoci un po' di E. Management, ok. Management, pessima pronuncia. No, non ci siamo, non hanno fatto il corso. Quindi tutti i giornalisti che d'ora in avanti diranno management, barrati. E insomma... A vita, peraltro, perché come questo è a vita, anche il bar... No, quello no, 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 assolutamente. Management, management. Ho imparato una cosa, vedi, oggi... Anch'io? Cioè, perché poi il problema è che a volte si rischia tra noi italiani, lo senti dire, lo senti pronunciare in modo diverso, cioè, caspita, magari sei un po' insicura, sbagliavo io e inizio a dirlo nel modo... Il qualunquismo uccide tutto, esatto. Assolutamente, no, 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 no. Beh, stage o stage fu un grande... Esatto, che tra l'altro per ogni inglese non si utilizza. Si utilizza internship. Prego? Internship. Internship, ok. Prego due cose. Grazie davvero a Silvia Benazzi per essere stata con noi. Grazie a voi. Quindi, per maggiori informazioni potete visitare anche il sito silviabenazzi.clickfundments.com Se l'ho fatta. Perfetta pronuncia, direi. Bene, alla prossima, buon lavoro, complimenti per questo progetto. Grazie mille, anche a voi. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Per oggi è tutto, un appuntamento è domani, sempre alle 18.35, con Angela e Matteo. Su Telemantua, va detto in italiano, va bene qui. Mantua Channel, deve essere. Telemantua, Telemantua. A domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.